Arrivano i nostri! Gruppi rock, band locali, cantanti e la voglia di emergere, di farsi conoscere in tutto il Trentino Alto Adige, Tirolo Austriaco, Nord Veronese e Bellunese. In tre parole, Arrivano i nostri! Rubrica curata e condotta da... ...MBC Rete Regione, la Radio delle Alpi. Ciao a tutti da Fabio, benvenuti a questo appuntamento di lunedì 12 luglio, Andair sulle frequenze di Radio NBC, Rete Regione, con noi al di là del vetro c'è Patrizia e ospite di questa nostra settimana insieme, questa settimana di luglio, è Andrea Cristofori in Arte Potter. Ciao Andrea! Ciao a tutti, ciao Fabio, grazie ancora per avermi ospitato nuovamente qui in radio, sono contento di far sentire le mie canzoni al di fuori della Toscana. Perfetto, perfetto. Il tuo è un ritorno, quindi qui che è benvenuto, bentornato, ve l'hai dovuto dire, Andrea, prima di ascoltare la prima traccia, per entrare subito nel vivo, come sai a noi piace fare, una battuta su questo lavoro, come un albero. Sì, il mio secondo disco, il mio secondo EP, che nasce un po' da questa esperienza di Covid, lockdown e bla bla, che mi ha portato molto a suonare, e tutto il disco rappresenta, insomma l'albero rappresenta proprio la resilienza, cioè la resistenza a questo brutto periodo, che comunque ha portato anche delle cose buone, come per esempio questo disco che altrimenti non c'era. Primo pezzo che ascoltiamo, come si intitola, che pezzo è? Vi farei ascoltare il primo singolo, Stanotte stai con me, che è un desiderio di raggiungere la persona amata. Stanotte stai con me, a Radio NBC, Andrea Cristofori. Tu lontana da me, la mente mi porta da te, mi chiedo solo perché, perché. Le nostre parole diventano onde, le nostre parole diventano onde, che attraversano il cielo. Aspettami dove sei, stanotte stai con me, e poi. Dona ciò che vuoi, stanotte stai con me, e poi. Prendi ciò che vuoi. Guardo la luna, in questa notte calma, e penso, ai nostri sguardi, che si incontrano lì. E poi le stelle, una, due, centomila, non finisco mai di contarle, che penso a te. Mi sento come in un gioco, senza un vinto, né un vincitore. Aspettami dove sei, stanotte stai con me, e poi. Prendi ciò che vuoi. Stanotte stai con me, e poi. Prendi ciò che vuoi. Prendi ciò che vuoi. Prendi ciò che vuoi. Stanotte stai con me, e poi. Prendi ciò che vuoi. Stanotte stai con me, e poi. Prendi ciò che vuoi. Andrea Cristofori, questo è il suo nuovo EP, questo lunedì sera, arriva direttamente da Firenze, la tua storia l'abbiamo già raccontata, ma la racconteremo ancora anche questa sera. Ecco, rispetto al tuo disco precedente, che sfumature ha questo lavoro, Andrea? Allora, è un lavoro completamente diverso, perché nel primo lavoro avevo cercato di… sono canzoni innanzitutto che vengono dal mio passato, quindi nel mio primo disco ho tentato di mantenere il massimo rispetto, rispetto alle produzioni del tempo, quindi tutto rifatto esattamente alla stessa maniera. Il secondo disco invece è stato completamente riarrangiato da zero, quindi la scrittura proviene dal mio passato, ma l'arrangiamento e tutti i suoni sono nuovi, quindi proprio l'opposto rispetto al precedente. Benissimo, andiamo ad ascoltare la seconda traccia di questo lunedì, 12 luglio, e Andrea cosa ci fai sentire? Allora, proporrei agli ascoltatori il secondo singolo, ormai, un ritorno dalla persona amata durante un tramonto in treno. Insomma, molto romantico. Poi il treno, io sai, insomma. Vabbè, Andrea Cristofoli, ormai. Ormai, solo questione di ore, vedrai, faremo ancora l'amore. Lo so, lo so che adesso mi vuoi, lo sai, che non te lo direi mai di no. Ormai, ormai, non siamo più solo sguardi, vedrai con gli occhi tuoi, se vuoi potresti toccarmi. Lo so, lo so che adesso ci pensi, lo sai, che voglio perdermi nei tuoi sensi. Per te tramonterà il sole, tra un po', qui sul mare. E per te voleranno i cambiari, andranno lontano in cerca delle tue mani. Ormai, ormai, ormai ti sono vicino, vedrai, seguirò il tuo cammino. Lo so, lo so che adesso mi cerchi, lo sai, lo sai che ti sto chiamando. Per te tramonterà il sole, tra un po', qui sul mare. E per te voleranno i cambiari, andranno lontano in cerca delle tue mani. Per te tramonterà il sole, tramonterà il sole, Ormai, Andrea Cristofori, questo è il suo nuovo e freschissimo EP, come un albero, al centro della nostra settimana insieme di Radio NBC con Arrivano i nostri. Andrea, dove si trova? Facciamo un po' di marketing. Questo cd e i tuoi contatti mail, insomma diamo già questa sera ai nostri ascoltatori, le tue coordinate. Perfetto, allora, Fabio ha in mano un cd che serve, diciamo, è una mia raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Quindi per avere questa tiratura limitata dovete contattare me tramite canali social, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, se ne dimentico qualcuno, ma insomma Soundcloud, insomma mi trovate sempre come Andrea Cristofori o Andrea Cristofori Music. Perfetto, perfetto, quindi si trova lì. Andrea, l'ultimo pezzo di stasera con cui salutiamo i nostri ascoltatori? Allora, l'ultimo pezzo di stasera vorrei, diciamo, tornare al mio pezzo che ha avuto maggior successo. Anche perché, insomma, sì, è stato il mio primo singolo dove mi sono lanciato col paracaduto, senza vediamo, che sentite la Vorrei Venisse il Vento. Perfetto, ci sentiamo domani sera, ti aspettiamo qui. Ciao a tutti. Grazie Andrea, grazie a Patrizia in regia e vi lascio con questo brano tratto dal precedente lavoro di Andrea Cristofori. Ciao da Fabio, a domani sera, venti e quindici, venti e trenta, on the air, Radio NBC. Sì, è irraggiungibile, lontano così lontano che non ne vedi l'orizzonte. Buio così buio, da avere la sensazione di precipitare giù nel vuoto. Male, così male, da non capire dove comincia questo tuo dolore. Non lo sopporti più, a volte vorresti gridare, ma non ci riesci, non ci riesci. Rosso come la rabbia che hai dentro, giallo come la luce che vorrei ti guidasse. Blu, blu, come l'amore che tu sai donare. Vento, vorrei venisse il vento e portasse via le nuvole che coprono il sole che è dentro di te. Perché non si può vivere da soli, rincorrendo un sogno quando credi, quando pensi irraggiungibile. Vorrei portarti al mare, passeggiare sulla spiaggia, ascoltare la voce del mare, che si mescola il tuo cuore, ti farei un po' coccolare dai raggi del sole. Ma adesso io vorrei, vorrei che... Vento, vorrei venisse il vento e portasse via le nuvole che coprono il sole che è dentro di te. Perché non si può vivere da soli, rincorrendo un sogno quando credi, quando pensi irraggiungibile. Vento, vorrei venisse il vento e portasse via le nuvole che coprono il sole che è dentro di te. Perché non si può vivere da soli, rincorrendo un sogno quando credi, quando pensi irraggiungibile. Arrivano i nostri! Gruppi rock, band locali, cantanti e la voglia di emergere, di farsi conoscere in tutto il Trentino Alto Adige, Tirolo Austriaco, Nord Veronese e Bellunese. In tre parole, arrivano i nostri! Rubrica curata e condotta da Fabio De Santi. Su NBC Rete Regione, la Radio delle Alpi.